Io ne ho preso sette a Manchester United. Quella è stata più bella di questa. La serata più bella, al di là di quello che è risultato, è la prestazione. Noi abbiamo fatto una grande prestazione. La prestazione è stata una prestazione di livello, una prestazione che dà consapevolezza, dà convinzione poi di avere delle qualità e sulle quali si può lavorare. Vanno fatti meriti ai calciatori per aver giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, perché queste partite qui le guardano tutti e sono meriti che loro hanno, perché stasera hanno fatto veramente delle giocate belle da vedere. Anche Maradona sarà stata orgogliosa stasera.